Buon salve a tutti, io sono Roberta e siamo vicinissimi a Natale, e proprio per questo ho pensato di proporvi un argomento a tema, però nel mondo del paganesimo. Potrei essere super banale, quindi parlarvi dei Saturnalia, ma in realtà vorrevo concentrarmi proprio sulla giornata del 23 dicembre. Infatti, non so se lo sapete, ma i Saturnalia occupavano un grosso periodo di tempo, durava settimane, e l'ultima giornata era proprio il 23 dicembre, oggi. E siccome ogni giorno era particolare e aveva un suo tema, il 23 dicembre non era mica da meno, anzi come giornata conclusiva era dedicata ai Larentalia. Ma appunto, che cos'erano i Larentalia, oltre che essere l'ultima giornata dei Saturnalia? Per i Romani era una dedica ad H. Laurenta, un personaggio semidivino a tratti, di cui in realtà non sappiamo moltissimo, abbiamo solamente alcune supposizioni. Secondo Macrobio, infatti, questo personaggio era una fanciulla che per un'intera notte era andata nel Tempio di Eracle a pregare per trovare marito. E ad essa, grazie all'intervento divino, poi venne affibbiato sostanzialmente un uomo ricchissimo di origine etrusca. E quando lui morì, lei ereditò tutto, ma poi lo donò alla stirpe romana. Ed è per questo che i Romani istituirono una festa a lei dedicata. Secondo Lattanzo, invece, Larenta non era altro che la moglie di quel pastore che trovò Romolo e Remo. Quindi il popolo romano la onorava in quanto genitrice dei giugemelli, non per averli messi al mondo, ma appunto per averli allattati, cresciuti, avergli dato un tetto. E questa informazione è molto peculiare perché la moglie del pastore in realtà veniva denominata la lupa, perché è così che si chiamavano le prostitute al tempo. Anche adesso esiste il termine lupanare, in realtà. Ma comunque questa è un'informazione molto interessante e significativa perché, secondo alcuni storici, la figura di H. Laurenta in realtà deriverebbe da una figura semidivina del popolo etrusco, che era una prostituta che si occupava di proteggere il popolo umile. Altri storici, invece, ipotizzano che potesse derivare da una divinità dei Sabini, che aveva un nome molto simile, che però era dedita all'oltretomba. Ed è significativo anche qua, in realtà, perché nel giorno dei Larentalia, il popolo romano faceva offerte ai propri antenati, quindi ai propri defunti. Infatti, per i romani in generale, i Lares, questi spiriti defunti dei nostri antenati, erano molto importanti, non solo perché sono il sangue nel nostro sangue da cui noi veniamo generati, ma anche perché ai Lares stava il compito di proteggere il nucleo familiare e la casa. Quindi, in generale, per il popolo romano, l'ultimo giorno dei Saturnalia, ovvero il Larentalia, erano una giornata di ricordo. Sia da un punto di vista storico, secondo Macrobio, per quella donna che ha devoluto la propria eredità al popolo romano, oppure, secondo Lattanzio, quella donna che ha cresciuto Romolo e Remo, dando quindi una possibilità al popolo romano di esistere e svilupparsi, e dall'altra, un ricordo del nostro passato, di chi noi siamo stati, in maniera tale da poter ponderare su chi saremo. Una giornata di ricordo e ringraziamento. Quindi, personalmente, io vi invito, anche se non siete ricostruzionisti del culto romano, a dedicare questa vostra serata o giornata, in particolare, al culto dei defunti, dei vostri antenati. Anche solo poter leggere di loro, cercare informazioni, ascoltare i vostri nonni che ne parlano, è fondamentale per poterci creare un legame spirituale. Se non avete questa possibilità, è invece molto interessante poter leggere delle fiabe con cui loro sono cresciuti, quindi cercare il posto loro di origine e tutto il loro folclore. Se ne avete la possibilità, visitate i vostri nonni e i vostri bisnonni. Altrimenti, preparategli un altare, fateli visita magari al cimitero e fate delle offerte, floreali o meno. E detto questo, io so che il video di oggi era molto molto breve, ma non volevo pesarvi, soprattutto durante le feste. Noi ci rivedremo dopo Natale con un altro video, sperando di riuscire a riprendere la schedule normale dei due video a settimana. Ma a parte questo, io vi auguro tante buone feste, sia chi ha già festeggiato Yule, chi festeggerà Natale e chi festeggerà Capodanno in discoteca. Mi raccomando, ovviamente, state attenti perché comunque siamo in una pandemia globale, ma a parte questo, io vi auguro il meglio. E per il resto, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ma fino ad allora, ciao ciao bimbi belli! Ciao ciao!